Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Io sono Gianluca e oggi siamo nel vlog numero... Vabbè, mi sa tre Vabbè, non mi ricordo Oggi vorrei dire che questi due giorni non ho fatto video perché non ho avuto abbastanza tempo Ho avuto dei contrattempi Tipo, sono... qui c'è tutto un casino perché dobbiamo... ci dobbiamo pittare qui E praticamente ho avuto un casino, non ho potuto fare video perché abbiamo spostato tutte le cose Ehm... Beh, niente, volevo dirvi solo questo Vabbè, sto vedendo la partita dell'Italia Anche se non ve ne freca niente E... mi raccomando, un mi piace qui sotto Un commento E... iscrivetevi al canale E condividete il video e altri video miei Così che gli altri possono vederli e iscriversi eventualmente Bella ragazzi